E siamo qui con il vincitore di questa prova di obberienza andatore, si tratta di Tartaro del Terriccio, questo bel Sauro, in sella Andrea Bianchini, che è anche il proprietario insieme a Serena Regoli. Beh, una bella soddisfazione portare un puledro giovane già ad affermarsi in questa finale, visto che già nelle tappe di qualificazione si era messo in evidenza. Sì, una grandissima soddisfazione per me, per Serena, che ci siamo impegnati, sono anni che lavoriamo in una legione, ma siamo impegnati con questo cavallo, è veramente una grandissima soddisfazione. Quali sono le doti migliori di Tartaro? Beh, è un gran movimento, è un bravissimo cavallo di testa, ha dimostrato che in un ambiente così difficile, con tutta questa gente che si muove, con tutto il casino che c'è, riesce sempre a essere Serena e a dare il meglio di sé. Grazie Andrea. Serena, anche tu avete presentato altri puledri qui nella prova, questa è una passione, da dove arriva questa passione? Ormai sono anni che stiamo in mezzo ai cavalli, è una passione, ormai è una malattia, che non si può più rinunciare. Ogni tanto arriva qualche bella soddisfazione. Questo è importante. Grazie, grazie di nuovo. Grazie.